Stendere la gelatina su di un foglio formato A4 utilizzando un pennello. Non intingere troppo il pennello. Non deve gocciolare, le pennellate devono essere date prima nel senso della lunghezza e poi in quello della larghezza, a passate successive. Farlo riposare in piano fino a quando la gelatina non si sarà rappresa. In luce attenuato sotto una lampada incandescenza, stendere la soluzione di nitrato d'argento per mezzo di un pennello, curando che la stesura sia uniforme, senza ristagni di soluzione e senza insistere troppo nelle passate per non danneggiare la gelatina. Far asciugare il foglio in piano e al buio. L'asciugatura può essere accelerata con un phon a condizione di non riscaldare troppo la carta, in quanto la miscela sensibile tende a ricomporsi al calore. La carta così sensibilizzata deve essere esposta il più presto possibile. Illuminare ad una distanza di 25 cm circa, con faretto a 300 W. Fin dai primi istanti dell'esposizione alla luce, inizierà a formarsi l'immagine bruna sulla carta, e se ne potrà seguire l'annerimento sollevando un angolo del negativo. Lasciar proseguire l'annerimento un po' oltre quello giudicato ottimale, in quanto con il fissaggio l'immagine tenderà a perdere densità. Immergere la carta in una vaschetta contenente la soluzione di fissaggio ed agitare. Trascorsi 5 minuti, togliere la stampa dalla bacinella ed effettuare un lavaggio con acqua dal rubinetto, come si fa per le convenzionali carta in bianco e nero. Finito il lavaggio, appendere ad asciugare. Finito il lavaggio, come si fa per i przestrug iORi? Finito il lavaggio,fonso godi dicono. Finito il lavaggio, sai truca hood, causa 들어오 Whenever... Finito il lavaggio, l'aggressiono va aивать un lavaggio con acqua dal rubinetto, come si fa per i stressor. Inoltre il lavaggio con acqua dal rubinetto, come si fa per i stressor esparano. Finito il lavaggio, così fa per i stressor, et assureggiato il lavaggio del padre deいましたro, con acqua dal app testo del armee bianco, cosi possono verACH, Grazie a tutti.